Avvocato Tiboni, il bilancio della Regione è stato approvato, non ci sono fondi o almeno non ci sarebbero fondi per i premi internazionali Flaiano, la manifestazione più importante che c'è nella nostra Regione, lei ci è rimasta male? Io ieri ho appreso dai giornali leggendo l'elenco delle manifestazioni che verranno finanziate che il premio Flaiano era stato escluso, io non conosco i criteri con cui sono state scelte le associazioni e i premi e questi criteri ripeto sono evidentemente stati elaborati all'interno dell'emendamento, io non conosco, non ho notizie dirette, certo è la domanda che io pongo alla Regione è perché il premio Flaiano è stato escluso dai finanziamenti della Regione. Ringrazio il sindaco Carlo Masci perché dimostra ancora una volta, lo aveva già dimostrato in passato quando ero assessore regionale, un attaccamento ai premi Flaiano e soprattutto la comprensione dell'importanza di questi premi da un punto di vista non soltanto culturale ma anche turistico e poi diciamo che i premi Flaiano un po' appartengono alla storia dell'Abruzzo. Ringrazio anche l'assessore Febo che tramite lei mi dà notizia rassicurante, cioè che ci saranno i fondi per il premio Flaiano, quindi noi che stiamo già lavorando all'edizione del 2020 siamo fiduciosi, non possiamo che essere fiduciosi perché tra le altre cose fra due anni ci sarà la cinquantesima edizione celebrativa quindi dei premi Flaiano e quindi come vede le esigenze cresceranno e abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno anche della Regione.